Un cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori di Fano TV, come sempre sintonizzati sul canale 17 del Digitale Terrestre per seguire Occhio ai giornali, che è la rassegna stampa di Fano TV che va in onda tutti i giorni da lunedì al sabato in diretta alle 7.30, poi in replica fino alle 8.30 ogni quarto d'ora, alle 9.10 alle 13.30. Diamo uno sguardo allora per cominciare al Santo del Giorno, oggi è San Crispino, San Crispino nato a Viterbo, il sole sorto alle 5.38, tramonterà alle 20.31. Vediamo il tempo, la fotografia del nostro osservatorio meteorologico con tutti i dati che potrete seguire anche voi, accedendo alla pagina internet di occhianotizia.it, vedete la temperatura a 17 gradi, quasi 18 gradi, mentre per oggi le previsioni prevedono un cielo sereno poco nuvoloso su tutta la costa, temperature in aumento. Per domani invece aumento della nuvolosità con possibilità di qualche breve rovescio nel tardo pomeriggio, temperature senza variazioni di rilievo. Per la giornata di giovedì il tempo si guasta con una perturbazione anche temporalesca nell'entroterra, con pioggia abbondante invece su tutta la riviera adriatica, avremo piogge diffuse nella prima parte della giornata, prevalente carattere di rovescio di temporale, maggiormente sparse nel pomeriggio e più insistenti nelle zone interne. Le temperature ovviamente sono in diminuzione, i venti di brezza tesa, quelli settentrionali con raffiche fino a vento fresco lungo la costa nel pomeriggio. Il mare sarà inizialmente poco mosso come tondosi in aumento fino a mosso nel pomeriggio. Dunque giovedì giornata di pioggia, indicazioni poi di tempo instabile per tutto il fine settimana con probabile miglioramento all'inizio della prossima. Speriamo di non replicare quello che è successo l'anno scorso con i weekend che si sono andati a far benedire per quasi tutta l'estate. Tempo buono, un po' a singhiozzo con weekend di pioggia. Vedremo. Intanto cominciamo a leggere i giornali, partiamo dal resto del Carlino, il mini dragaggio in apertura con Pezzolesi Scettico, Pezzolesi è il direttore di Comarpesca, dice non cambierà nulla. Intanto ieri sono iniziati i lavori per questo mini dragaggio del porto di Fano, 2.000-2.500 metri cubi di fanghi che saranno smaltiti in discarica per un costo complessivo di circa 50.000 euro. I lavori di dragaggio che dureranno ancora un giorno o due non sono stati accolti con grande entusiasmo dalla marineria e il perché lo spiega in questo articolo del resto del Carlino, Marco Pezzolesi. Poi andiamo sotto per leggere l'altra notizia il cui argomento è un po' un argomento che si può benissimo discutere su qualsiasi via o su qualsiasi città della nostra provincia. Parliamo delle buche. Fosso Signore, Trappeso Reffano, 100 buche, incidenti a raffica. Ieri dopo aver visto che facevano le foto il Comune è intervenuto. Ci vogliono giornalisti con la macchina fotografica in mano per far chiudere le buche in città. Dopo che ieri mattina siamo stati a Fosso Signore e abbiamo bloccato, bloccando il traffico nel sottopasso per immortalare qualche scatto, con qualche scatto quelle voragini piene d'acqua che negli ultimi mesi hanno provocato tanti incidenti qualche operario del Comune è passato a gettarci sopra dell'asfalto. Ed ecco qui il risultato. Poi invece, sempre dal resto del Carlino, Presidenza del Consiglio Comunale di Fanno. I quarantenni si prenotano per prendere il posto di Renato Claudio Minardi. Chi sarà il suo successore? Chi sarà il successore di Minardi della Presidenza del Consiglio Comunale in caso di elezione del candidato PD in Consiglio regionale? Non è il momento di parlarne. Taglia corto il capogruppo del PD di Fanno, Cristian Fanesi. Questo è il momento invece di lavorare. Non la pensa così invece il coordinatore di Noi Città, Marco Savelli, che torna a chiedere una riunione di maggioranza per discutere dei rapporti interni prima del 31 di maggio, giorno appunto in cui si voterà il nuovo Consiglio e il nuovo Presidente della Regione Marche. Sull'ospedale unico, che cosa ne pensano invece i candidati? Il Comitato di La Cetera invia un questionario ai futuri governatori. Contro bulimia e anoressia quando il cibo è un'ossessione, un convegno a Fanno sul comportamento alimentare. L'iniziativa è stata organizzata da un'associazione Onlus che si chiama Mi Fido di Te. Sarà un approfondimento della realtà marchigiana con la partecipazione degli esperti. A Marotta, Palazzetto dello Sport, è trovata la soluzione per avere la capienza, progetto dell'ufficio tecnico. La struttura tornerà ad ospitare fino a 500 spettatori. A Fanno è stato salvato dall'intervento del CRAS. Svegliarsi la domenica, la domenica mattina, con un capriolo in giardino. Domenica mattina un signore che si chiama Carmine Rigioni, con grande sorpresa, se l'è trovato in giardino mentre girava spaisato, probabilmente giunto dal vicino canale Albani. In realtà si trattava di una femmina di appena un anno e mezzo e nel tentativo di salvarla da possibili investimenti sono stati allertati i vigili del fuoco e la polizia provinciale. Poi le proposte di Federico Talè, che è un candidato al Consiglio regionale del Partito Democratico, Federico Talè, che tra l'altro è anche il sindaco di Mondavio, chiede una postazione del 118 per l'Unione Roveresca. Da Fossombrone i bidelli non possono apparecchiare. Fossombrone, scontro tra comune e dirigente scolastico. Incompatibilità ambientale tra l'amministrazione comunale e la direzione didattica. Proprio così, con queste parole che riecheggiano vicende ben più gravi e serie, un comunicato congiunto del vice sindaco di Fossombrone e dell'assessore alla pubblica istruzione descrive rapporti attuali tra comune e dirigente scolastico. L'ultima pagina del resto del Carlino, ci occupiamo del passaggio del Giro d'Italia, oggi passano i corridori, la statale adriatica sarà off limits dalle 12, da mezzogiorno, parcheggi vietati invece sin dal mattino. Oggi è infatti il giorno della decima tappa del 98esimo Giro d'Italia che transita nella nostra provincia, nell'ambito della Civitanova Marche e Forlì di 200 km. La Caromana arriva da sud e in base ad una tabella di marcia entra Marotta in via Litoranea tra le 14.20 e le 14.30, poi sarà Ponte Sasso, Metauriglia, Fano dove è fissato anche il rifornimento, poi la statale adriatica sud, via Lepiceno, via Pisacane, via 12 Settembre, via Legramci, Buozzi, Primo Maggio, Romagna e statale adriatica nord alle 14.50 circa. Poi ovviamente queste strade sono chiuse al traffico, il comune di Fano consiglia di utilizzare tutta una serie di strade che potrete leggere sia sui giornali sia sui siti internet eccetera, però per quanto riguarda gli orari di passaggio, problemi per il collegamento Pesaro-Fano ci sono delle alternative, però poi come abbiamo detto anche ieri sera insomma per gli studenti, visto che quest'ora passano, escono da scuola eccetera eccetera, per gli studenti non dovrebbero esserci grossi problemi, insomma la società che gestisce i trasporti pubblici ha assicurato che insomma in un modo o nell'altro si troverà il modo per prenderli e portarli a casa insomma. La pagina del Corriere Adriatico, profughi, un protocollo per il loro impegno, si comincia a giovedì a muraglia, pulizia del parco Scarpellini, degli orti e delle aree intorno agli istituti. Dunque il prefetto Pizzi, Pesaro dice attualmente il primo ed unico comune ad aver sottoscritto questa intesa, un'intesa che prevede l'impiego di questi extracomunitari a titolo di volontariato per svolgere dei lavori, prestazioni a titolo gratuito. Sono già molti gli extracomunitari a dare una mano e quindi questo è un protocollo che spero possa portare buoni frutti e buona collaborazione tra le persone che arrivano qui e chi ci sta e chi ci abita. Piano ferie, parliamo di sanità sul Corriere Adriatico, piano ferie, ecco le riduzioni dei servizi. Il direttore Maria Capalbo, il blocco riguarda solo l'attività programmata, via libera dei sindacati a questo piano ferie. Spacciava davanti all'ospedale di Pesaro, arrestato con erba eroina e cocaina, segnalata una coppia di trentenni sorpresi ad acquistare la droga. Comune e preside, ormai è guerra aperta. Il vice sindaco parla di incompatibilità ambientale. Un magnum per il mini dregaggio del porto, il motopontone estrarrà solo 2000 metri cubi di fanghi, intervento tampone in attesa dell'intervento della regione. L'amministrazione intende garantire un minimo di sicurezza, almeno per la prossima estate. Al sindaco arrivato sul posto, gli operatori della pesca hanno espresso una moderata soddisfazione. Poi, edifici intelligenti. Il comune si affida alla finanza creativa e sotto, sapori e motori, un successo, ma non tutto. È stato all'altezza, strutture non in buono stato, parcheggio selvaggio, e rifiuti abbandonati, però Sassonia è stata davvero una location vincente. Si riaccende la magia del Giro d'Italia, la pagina di Fano del Corriere, la carovana attraversa oggi la città di Fano. Ecco come cambia la viabilità e l'utilizzo dei parcheggi. Poi, tra l'altro, in questa occasione verranno premiati anche quattro agenti della stradale. Questa mattina a Civitanova, prima della partenza della decima tappa, nell'ambito dell'iniziativa Eroi della Sicurezza, vengono premiati quattro poliziotti del distaccamento autostradale di Fano. Poi, ancora dal Corriere Adriatico, la marcia podistica amatoriale per l'handicap, Camminando con Don Orione, è un evento organizzato in occasione del 75esimo anniversario della morte di San Luigi Orione. E dunque c'è questa iniziativa, era a favore dell'Istituto Casa Serena di Bellocchi, che ha costituito sia il punto di partenza che quello di arrivo della marcia. Grande è stata la partecipazione dei privati cittadini, famiglie, gruppi e associazioni locali come Forbici e Action Aid, che hanno offerto la loro collaborazione al fine di sensibilizzare su tematiche importanti come la solidarietà. Ok, poi a centro pagina, invece, da Mondolfo, abbiamo visto anche dall'altro quotidiano, dal resto del Carlino, più posti al palazzetto dello sport. Affidato l'incarico ad un professionista dovrà ampliare l'agibilità dell'impianto. Poi da Senigallia, invece, a Senigallia si vota non solo per le regionali, ma anche per eleggere il nuovo sindaco, manifesti strappati, campagna al veleno. Alla Cesanella è il primo confronto fra i sette candidati a sindaco, tumulti in piazza, dieci le persone identificate. Andiamo avanti con la rassegna, apriamo adesso il messaggero. Prima Renzi, poi Berlusconi. Per le regionali scendono in campo i big. Il premier sarà lunedì a Ancona per Luca Ceriscioli. A sorpresa, invece, martedì il Cavaliere al Teatro delle Muse per sostenere la candidatura di Spacca. A centropagina, dopo la notizia di quel poliziotto sorpreso a prelevare cocaina dalla cassaforte della squadra mobile, cocaina che era lì ovviamente in attesa di essere distrutta, frutto di sequestre e quant'altro, bene, il questore, Laurila, dice pulizia senza esitazioni. Mentre la notizia che farà piacere a coloro che amano il Carnevale di Fano, eccola qua, sempre sulla prima pagina del messaggero, la musica arabita sfilerà all'Expo di Milano. Operazione riuscita, a Milano il Carnevale di Fano, ma anche Rossini e Raffaello. Da giovedì, invece, il tempo peggiorerà, l'abbiamo visto. Il tempo cambierà e quindi giovedì arriveranno i temporali. Poliziotto sospeso, in quest'ora siamo una casa trasparente, dice Laurila. Un'indagine dolorosa perché interna, ma se c'è da fare pulizia la facciamo senza esitazioni. Mentre l'Anzi, che è il rappresentante del sindacato, il SILP, dice il limite della legalità non può essere superato. Frega invece del SILP, ben venga la luce sulle ombre, ma resta comunque l'amarezza. Poi anche qui l'altra notizia di Cronaca. Spacciava droga con la scusa di portare a spasso il cane. L'uomo sorpreso a smerciare dai carabinieri nel parcheggio dell'ospedale di Muraglia. Profughi al lavoro invece al parco Scarpellini. Si comincia dopo il protocollo d'intesa firmato in Prefettura. Il sindaco di Pesaro, Ricci, dice a casa mia il primo pranzo con i migranti. Ex AMGA, la bonifica va sospesa. Il Movimento 5 Stelle, i lavori dovevano essere effettuati con temperature rigide. Ora è troppo caldo, si rinvii all'autunno. Mentre l'onorevole Cecconi, la Presidente Bassi, dice la fase è delicata. Il Comune di Pesaro è ermetico sui dati delle analisi e sugli atti relativi all'appalto. Ancora passa il giro, un'ora di festa rosa attraverso la provincia. Poi ancora dalla pagina di Fano del Messaggero. Finalmente è partito il dregaggio, primo giorno senza intoppi. Ieri mattina il sindaco si era voluto recarsi al porto per seguire l'intervento. L'obiettivo è quello di trasportare altrove 2000 metri cubi di fanghi. La prossima settimana si concluderanno i primi lavori che permetteranno ai pescatori e ai portisti di navigare in sicurezza. Poi Fano Rastat, 30 anni e non sentirli. È stato un successo, un successo anche agli eventi collaterali collegati alle iniziative per l'anniversario del gemellaggio. Tra l'altro c'è stata questa cerimonia al Teatro della Fortuna, sabato pomeriggio, dove si sono appunto conclusi i festeggiamenti per questo gemellaggio. Lungo 30 anni la cerimonia è stata agliettata dall'esibizione del coro polifonico malatestiano e dal coro di Rastat. Ed è stata questa cerimonia presentata dalla nostra Simona Zonghetti, come scrive il giornale di Fano TV. Poi ancora uno sforzo per aiutare Roberto a riacquistare il suo mobility, quel mezzo che gli serve per muoversi in città. Roberto è quel ragazzo disabile del cui ci siamo occupati qualche giorno fa. A lui hanno rubato questo mobility. Ebbene, il disabile a cui è stata rubata la carrozzina, che gli consentiva di avere un po' di autonomia, pare che insomma ci siamo. Ormai l'obiettivo di questa iniziativa, che ha saputo creare una bella catena di generosità spontanea e di poter arrivare il più presto possibile vicino al totale di 5.000 euro, la somma necessaria per acquistare appunto questo mobility, questa carrozzina. Poi febbre da sbancati per chiudere la rassegna. Tutto pronto per il Ciac da giugno, le riprese del Sequel, diretto da Henry Secchiaroli. Sarà un road movie attraverso la provincia con tante sorprese. Dunque dopo il successo degli sbancati, in attesa l'inizio delle riprese degli sbancati 2. Con questo noi ci fermiamo qui. Grazie per aver seguito Occhio ai giornali. Vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con Occhio alla Notizia. Arrivederci. Grazie a tutti.